Un tempo sognato che viene di notte e un'altra... Dove sei? Qui. Che ora è? Adesso. Che cosa sei? Questo momento. Andai nei boschi perché volevo vivere con saggezza e in profondità, sottchiando tutto il midollo della vita. Sottoscrivo il piede! Per sbaragliare tutto ciò che non era vita e per non scoprire il punto di morte che non ero vissuto. Quando sei là, quando sei nella natura, che cosa fai? Cosa fai, vivi amico? Sei lì, in quel momento, in quel momento, in quel posto speciale. Come ha detto Frost, due strade trovai nel bosco e io... Io scelsi quella meno battuta. Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.